adesso ti vedo, fai una virata a destra e una a sinistra no, Paola non è ancora arrivata qua la vuole essere in frequenza ti apre il portero della navetta così saliamo subito niente, dovresti fare una vite adesso a meno 10 metri al secondo a scendere, dai forza faccio tutto quello che mi dici tu a meno che non vedo che fai delle caratteristiche a voi e allora evito il campo è a terrazzo all'esterno dove stai andando? tutto sbagliato ha peccato una bollicina perfetto, ho fatto un attiraggio perfetto fallo venire avanti, dai fallo venire avanti fallo venire avanti non ce l'ha fatta non ce l'ha fatta non ce l'ha fatta non si, non troppo però eh sì, non troppo però eh si, 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 si